Spero che serva perché è giusto così e mi dispiace che non venga diffusa questa notizia. L'abbiamo saputo via internet però è brutto che non possa essere diffusa sui giornali. No, non l'ho firmato perché non ho visto dove si firma. Certo che deve servire, deve servire. Dato che stiamo restringendo tutti, devono restringere anche loro i loro veri. Per manifestini appesi per la città sia su internet che i vari ieri Repubblica e vari giornali ne parlavano. Su questo sono d'accordissimo perché già era stato fatto un precedente referendum in cui si diceva che non dovevano più prendere soldi. Invece loro con uno stratagemma allora hanno rivoltato la cosa e hanno messo il rimborso elettorale. Ero venuta a sapere attraverso i massi media. Penso di sì, perché è giusto che anche loro abbassino come abbiamo abbassato tutti il tenore di vita e tutto. Ma sicuramente può servire, il brutto è che la gente non è stata messa al corrente perché nell'interesse dei politici non avvisare. Io l'ho saputo tramite internet dove c'è scritto che se i quotidiani avessero comunque esposto la notizia avrebbero tolto loro il finanziamento pubblico. Ecco perché tutto il mondo sarebbe qua a votare. Difatti dove io incontro io lo dico che c'è questo referendum e speriamo che serva qualcosa.